Signore e signori, buongiorno. Ringrazio la Fassa Bortolo per avermi invitato a questo convegno per parlare in modo pragmatico della funzione dell'intonaco nell'ambito dell'architettura. Il scopo dell'intervento odierno è quello di sensibilizzare la figura del progettista e del direttore dei lavori, nel nostro caso dell'architetto, in un settore, in una lavorazione che è quella dell'intonaco che molto spesso viene profondamente trascurata e tralasciata nell'ambito professionale. Sostanzialmente, passando al titolo dell'intervento, luci ombre dell'intonaco nella prassi quotidiana dell'architetto sta a significare cosa? Che molte volte, in qualità di architetto e di consulente tecnico, mi ritrovo a vedere delle belle architetture che però purtroppo nella loro, come possiamo definire, aspetto esteriore, nella loro pelle, che sarebbe costituita dall'intonaco prevalentemente, perché il rivestimento degli edifici nella maggior parte dei casi, nella nostra epoca, è ancora costituito dall'intonaco. Basti vedere gli edifici dei centri storici o delle nostre periferie, è costituito dall'intonaco. Si vede che delle belle architetture, però con una brutta pelle, vengono sminuite, vengono degradate molto rapidamente e per cui perdono completamente il loro fascino, perdono completamente il loro significato. Ecco perché luci ombre dell'intonaco, perché appunto ritengo che questo elemento debba essere, nella nostra prassi professionale, debba essere tenuto più in considerazione. Passando nello specifico, l'intonaco, mi spiace perché si legge poco, ma l'intonaco nella letteratura architettonica è costituito da una malta con uno strato di pochi centimetri e viene applicato alle murature per proteggerle contro le intemperie, impermeabilizzarle o prepararle a eventuali decorazioni. Di solito normalmente l'intonaco, nella prassi della regola dell'arte, viene eseguito in tre strati fondamentalmente, in maniera tale da poter ottenere poi una superficie che possa rispondere e possa proteggere le strutture. L'intonaco invece nella tecnologia è inteso come un composto materico che va applicato sulla superficie di una struttura con finalità funzionale, estetico figurativo e costituito da più strati di malta variamente formulata e applicata. Oggi, ai nostri tempi, questa tecnologia si è molto evoluta perché le aziende produttrici sono riuscite a mettere a punto e a formulare dei materiali che sono i più svariati nel commercio e offrono all'architetto la possibilità di rivestire le proprie architetture con delle pelli, in modo tale da poter valorizzare e poter rendere l'edificio più consono alle aspettative e anche alla contestualizzazione. Basti pensare, ad esempio, alle problematiche che possono insorgere nei centri storici, negli edifici, dove al di là delle superfici cromatiche abbiamo anche l'aspetto materico per vedere lavorazioni più o meno lisce. Per cui, in questo universo dell'intonaco, che è molto vario, è necessario che ci sia il controllo e la scelta e dobbiamo acquisire una cultura costruttiva. Invece, nel restauro, è stato teorizzato da Marconi che l'intonaco è una pelle di sacrificio, è un elemento che può essere sostituito perché è l'interfaccia del divenire nella storia del manufatto e la superficie intonacata registra sempre il mutamento dell'elemento. Venendo alle funzioni praticamente tecnologiche dell'intonaco, possiamo definire l'intonaco esterno come un elemento che deve avere la funzione predominante di idrorepellenza, mentre la funzione all'interno è quella della traspirabilità. L'idrorepellenza perché? Perché deve proteggere le strutture, deve essere quell'elemento in grado di sopperire e di non far degradare la mia architettura. L'intonaco va a interagire ed è un elemento che va ad interagire con elementi di vari tipi di supporto, i quali possono essere murature in laterizio, murature in pietra, murature in blocchi di cemento, murature in blocchi di legno e cemento, murature in calcestruzzo ed altri elementi che qui sono raffigurati. Questo è un edificio con struttura portante in laterizio e calcestruzzo armato. Questi sono altri casi di edifici allo stato organizzato con supporti murari, qui interessati da fenomeni di degrado, perché il supporto quando noi andiamo a operare può essere anche interessato da fenomeni di degrado, in questo caso di lavamenti con effluorescenze saline, dei solfati che questi potenzialmente possono creare delle situazioni molto pericolose dal punto di vista dell'applicazione dell'intonaco. Murature in pietra, ad esempio nell'ambito del restauro ci troviamo ad operare con edifici dei supporti che sono estremamente variabili dal punto di vista della composizione materica e che necessitano appunto di soluzioni e di adattamenti e di accorgimenti particolari dal punto di vista applicativo da parte del professionista. Murature in blocchi di cemento, anche qui queste sono le relazioni eseguite con dei blocchi in calcestruzzo, questi sono supporti in legno e cemento, questa carrellata qui serve per far vedere come poi un elemento che è l'intonaco, che è un unico impasto materico, in realtà mi vada a interagire con dei supporti che sono i più disparati e i più variabili e questo cosa significa poi dover accostare e dover lavorare con dei materiali che dal punto di vista del modulo elastico dei coefficienti di dilatazione hanno dei comportamenti estremamente variabili e questi poi a lungo andare per problemi dal punto di vista fisico o dal punto di vista chimico mi vanno a deteriorare la mia pelle dell'architettura. Questi sono elementi in gas beton, altro calcestruzzo cellulare e poi addirittura se dobbiamo usare delle forme architettoniche particolari possiamo inserire degli elementi in polistirene, qui ad esempio è una realizzazione in cui sono state fatte delle volte e sono stati accostati elementi in polistirene con questa è una cupola, sono stati accostati elementi in polistirene su blocchi di calcestruzzo su elementi in laterizio per cui situazioni che potenzialmente vanno sempre a inficiare il risultato finale della mia pelle dell'architettura. Nella prassi quotidiana quello che ci trova di fronte è delle prescrizioni progettuali da parte del progettista che effettivamente non tengono conto di qual è la problematica che si va ad innescare. Qui ho riportato delle prescrizioni progettuali, delle norme di capitolato dal punto di vista progettuale dove nella prima descrizione si parla di intonaco civile per interni applicato su pareti e soffitti a tre mani con l'obbligo della predisposizione di fasce e di guida e tirato a frattazzo. Descrizione 2 intonaco esterno a tre mani, spessore centimetri 2, descrizione 3 intonaci di tipo premiscelato con finitura civile per pareti interne ed esterne. Questo e questi esempi riportati stanno a significare come effettivamente su questa problematica dal punto di vista tecnologico non ci sia proprio una cultura, non abbiamo una cultura dal punto di vista della pelle dell'edificio e la conseguenza diretta di una scarsa conoscenza o dell'interazione tra questi tipi di materiale porta delle forme di degrado. Questa è la prima immagine, questa è un'architettura di un collega molto famoso che abbiamo qui a livello internazionale, una bella architettura ma che nell'ambito di brevissimo tempo, si parla di un anno o due anni, non so se riuscite a vederlo, ha manifestato dei degradi estremamente consistenti. Qui ci siamo trovati di fronte a una situazione come quella che avevo raffigurato precedentemente in cui l'accostamento di materiali di natura diversa, calcestruzzo e laterizio oppure pannelli isolanti sui cordoli che hanno dei moduli elastici di coefficienti di dilatazione estremamente diversi, inducono a dei movimenti della struttura che portano al stato fessurativo dell'intonaco. Basti pensare che anche una giornata di sole o uno shock termico induce delle variazioni dal punto di vista della temperatura sulle facciate dell'ordine dei 40-50 gradi. Per cui pensate che elementi che hanno moduli elastici e coefficienti di assorbamento diversi, vi faccio notare che ad esempio tra i blocchi di laterizio e i cordoli di malta, i coefficienti di dilatazione e di assorbimento sono doppi uno rispetto all'altro. Per cui quando abbiamo delle variazioni significative dell'ordine di 10-20 gradi centigrini di temperatura innescono delle tensioni dell'ordine delle decine di migliaia di decaniuto. E questi inevitabilmente comportano dei fenomeni fessurativi. Questo è un particolare ingrandimento di questa situazione qui dove si riesce a leggere proprio questa fessurazione a scaletta, perché poi la penetrazione dell'acqua mi permette la proliferazione di alghe e di muffe e mi determina proprio il completo degrado, il degrado della pelle dell'edificio. Questa è un'altra situazione di degrado in cui un'applicazione fatta in un supporto, anche questo con degli elementi strutturali portanti di natura fisica completamente diversa, minnesca dei fenomeni che vengono definiti di cavillatura, che inducono anche qui al degrado della facciata e dell'architettura. Questo è un tipico esempio, è un particolare ingrandito di quel fenomeno che avevamo visto prima in cui si vede il fenomeno fissurativo ed è l'elemento per cui poi mi induce alla degradazione delle facciate esterne. Questo è un altro tipo di degrado imputabile ai fenomeni applicativi che sta ad indicare che in fase applicativa tra i vari spessori dell'intonaco non c'è stata la corretta tempistica di applicazione per cui la parte superficiale si stacca. Questo è un altro esempio di uso improprio di materiali. Io vi sto facendo una carrellata per farvi capire che come un unico composto materico, che in realtà è l'intonaco perché è formulato è una malta, un unico composto materico però se male applicato mi crea una serie di problematiche e una serie di degradi per cui poi tutta la mia architettura che è stata pensata, che è stata concepita dal punto di vista strutturale, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista formale, estetico e compositivo mi va completamente a crollare perché figurativamente l'effetto del degrado, l'effetto dell'ammaloramento, come abbiamo visto su queste immagini qui, mi va completamente a rovinare l'effetto finale. Questo è un esempio per cui si vedrà poco nell'immagine, un fenomeno fessurativo condotto all'esterno in un attacco di una copertura con una muratura, guardate all'interno cosa mi va a comportare in un edificio, per cui si pone problemi che oltre dal punto di vista figurativo esterno, anche dal punto di vista della salubrità interna, dal punto di vista delle problematiche connesse. Questi sono altri esempi sugli accostamenti di problemi di natura fessurativa, sugli accostamenti di materiali per quello che dicevo prima, dal punto di vista dell'accostamento di materiali con moduli elastici diversi e che mi va a determinare i fenomeni fessurativi. Qui, passata questa parte, vorrei farvi vedere alcune applicazioni con un intonaco che ho avuto modo di usare personalmente in diverse situazioni, che è un intonaco che è stato messo a punto dall'azienda Fassabortolo, in cui ho avuto delle risposte dal punto di vista applicativo e dal punto di vista materico cromaticamente. È stato usato in diverse situazioni. È un materiale dal punto di vista compositivo, del tutto naturale, perché è ottenuto anche delle certificazioni biologiche, ma ha dato modo dal punto di vista anche espressivo di essere usato, perché come colore nell'impasto non è il colore grigiasto, per cui poi necessita di una ulteriore pelle o di dipinture o di altre finiture e si presta ad un uso estremamente variabile. La prima applicazione che è stata effettuata è in un'importante villa unifamiliare sul mare in Sardegna, in cui quella che avevamo visto prima con i supporti in blocchi di atterizio, con gli elementi in polistirene, con elementi estremamente variegati, mi ha permesso e mi ha dato modo di applicare questo elemento qui in modo tale da far vibrare l'architettura sotto la luce del sole, non usando i tradizionali strumenti propri dell'applicatore dell'intonaco, che sarebbero le stagie, sarebbero gli elementi lineari, dritti, perché adesso la regola dell'arte impone che l'elemento deve essere lineare, non deve essere storto, deve essere perfettamente planare, invece qui, in questa situazione qui, l'abbiamo usato proprio, come si vuol dire, a mano libera, in maniera tale da poter rendere espressiva la parete anche per le forme architettoniche che avevamo ottenuto. Questi sono gli elementi decorativi che hanno permesso proprio di valorizzare questi elementi anche nel colore, la struttura del colore sarebbe proprio propria. Nella foto precedente c'erano sempre degli elementi che avevamo usato, qui nella parte superiore del soffitto, avevamo usato gli accostamenti degli elementi in polistilene con gli elementi in calcestruzzo, e anche qui mi ha permesso di risolvere, lavorandoli a mano libera, queste superfici estremamente complicate ed estremamente difficili. Ecco, anche in questi dettagli qui, ho avuto la possibilità con l'applicatore di mettere in evidenza questi elementi dal punto di vista architettonico e farli risaltare, proprio di dare quel senso di pelle a un edificio. Questi sono gli altri scorci, invece questa applicazione che è stata effettuata in un vecchio edificio, in un mulino del 1200, dove anche qui avevamo problemi di supporti murari estremamente variegati e dal punto di vista materico e dal punto di vista composizionale avevamo la necessità di usare un materiale che non avesse delle prestazioni dal punto di vista elastico, che mi permettesse l'applicazione e anche qui di ottenere l'effetto proprio della pelle senza avere quell'effetto lineare che avrebbe mortificato sicuramente le strutture e le pareti di un edificio del genere. Qui ci sono degli altri dettagli e questa è la parte interna. Non so se riuscite a vedere in fotografia e gli effetti proprio della vibrazione e dell'elemento che va a costituire come una sorta di pelle diciamo dell'involucro edilizio. Queste sono delle altre viste, sono delle applicazioni interne appunto per far capire com'era la situazione dei supporti murari che sono rimasti delle parti a vista. Questo è un altro tipo di applicazione fatto su edifici nuovi con supporti in laterizio completamente planari e dritti in un'altra situazione. Queste sono tutte realizzazioni architettoniche senza l'uso di colori, senza l'uso di niente. È solo un intonaco applicato e lavorato superficialmente per darmi proprio l'effetto materico di una pelle che questa pelle ha la capacità di metamorfosi che a seconda del contesto e a seconda dell'elemento su cui lo vado a applicare ottengo determinati effetti. Questo è uno scorcio di interni e questa è una parte interna in cui questo elemento qui è stato applicato e poi è stato compattato superficialmente. Anche qui degli altri scorci internamente per far vedere proprio anche nell'ambito dei volumi e nell'ambito delle lavorazioni come questo elemento qui possa essere lavorato e possa ottenere delle diverse caratterizzazioni caratterizzazioni dal punto di vista visivo a seconda del contesto in cui può essere lavorato. Questo è un altro intervento che è stato eseguito in un elemento architettonico un capitello per la soprintendenza per cui il supporto murario siccome prima c'era una pelle attaccata con un intonaco di inizio secolo a caratteristiche cementizie a grigio e pitturato con un colore abbiamo ottenuto l'effetto poi applicandolo così e lavorandolo in un'altra situazione in maniera tale da ottenere l'effetto di questa pelle e di questo cromatismo qui.